Sono Jacob Vandenborn. Io e mio fratello siamo proprietari di un'azienda che produce patate nel sud dell'Olanda. Pratichiamo l'agricoltura di precisione da oltre dieci anni e quest'anno abbiamo avviato questo centro prove per l'agricoltura di precisione. Offriamo alle aziende l'opportunità di tastare i loro prodotti, renderli migliori o confrontarli con le tecnologie dell'agricoltura di precisione. Quest'anno abbiamo vari campi prova e in uno testiamo la lisciviazione dell'azoto sui nostri terreni sabbiosi. I nostri sono terreni fortemente soggetti al dilavamento e per questo abbiamo cercato prodotti alternativi che lo riducessero il più possibile. Su questo campo abbiamo tre diverse zone. La prima è quella con trattamento standard che concimiamo tre volte durante la stagione. La seconda è con il concime a cessione controllata AgroMaster, mentre la terza è trattata con concimi inibitori applicati proprio all'inizio della stagione, al momento del trapianto. Durante la stagione abbiamo fatto numerose misurazioni, ma per prima cosa abbiamo scansionato il terreno. L'abbiamo fatto con il conduttivimetro Dualem 21S. Questo sensore misura la conducibilità del terreno e ci permette di scegliere facilmente i punti giusti delle parcelle nelle zone trattate. Ogni zona ha tre parcelle per ripetere la misurazione mensile dei dati. Per la biomassa, per il contenuto di azoto, ma abbiamo installato anche dei pozzetti per la lisciviazione e utilizziamo delle sonde per valutare il livello di azoto nell'acqua superficiale. Così vediamo le differenze tra la zona con trattamento standard e le altre. Durante la stagione, raccogliamo le foglie per analizzare l'azoto e misuriamo la clorofilla della coltura e la biomassa con il sensore Fritz-Meier e lo strumento portatile Dualex. Oltre a questo, abbiamo anche immagini del campo raccolte dal drone per vedere se dall'alto ci sono differenze visibili. Alla fine della stagione, ed è quello che stiamo facendo adesso, procediamo col raccolto usando il software Yeld Master Pro, un sistema di misurazione raccolti presente nel trattore che misura il raccolto di ogni 9 metri quadrati. Questi dati poi vengono analizzati dopo il raccolto e vengono ricondotti alle singole zone di trattamento e parcelle per vedere quali sono le differenze di raccolto. Ho avuto subito un feeling molto positivo per la zona con i concimi a cessione controllata. Mi è sembrata la migliore, perfettamente irrigata e piante cresciute come piace a noi. Non vedo l'ora di vedere i risultati finali. Grazie a tutti. Grazie a tutti.